Ben ritrovati, questi erano i titoli del nostro giornale, dunque come anticipato apriamo con la sanità perché è scontro tra le forze politiche presenti in assemblea regionale sull'approvazione del nuovo disegno di legge sui criteri di nomina dei direttori generali della sanità nonostante, approvato ieri, nonostante i voti contrari dell'opposizione dure le accuse al governatore che potrà decidere direttamente le nomine intanto questa mattina De Luca in visita all'ospedale Cardarelli a Napoli ha parlato del nuovo piano ospedaliero sentiamo approvata ieri in consiglio regionale la nuova legge sui criteri di nomina dei direttori generali della sanità d'ora in avanti a scegliere i manager sarà direttamente la politica e ciò che prevede il disegno di legge approvato ieri a maggioranza dall'assemblea campana tra le polemiche delle opposizioni centro-destra e Movimento 5 Stelle a lanciare bordate è stata la grillina Valeria Cerambino con l'approvazione della legge sulle nomine della sanità De Luca sconfessa in un colpo solo sia il ministro della sanità Beatrice Lorenzin sia il ministro della semplificazione e pubblica amministrazione Marianna Madia ne prenda nota il premier Renzi la campania non cambia verso ma ripiomba nel passato che non passa dalla prima repubblica lo dice il consigliere del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione trasparenza commentando l'approvazione in consiglio della proposta di legge disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione questa legge sottolinea la Cerambino riporta la campania ai tempi bui della lottizzazione delle nomine e condanna la sanità campana ad essere gestita non da persone scelte sulla base del merito mettendo incompetenti come quelli che fino ad oggi hanno portato la sanità sul baratro il presidente De Luca non ha portato un solo argomento per smontare le sue bugie ha sottolineato si vota la legge alla maniera berlusconiana applicando il metodo demitiano per fare le nomine clientelari abbiamo scritto al presidente della Repubblica e dei rappresentanti della sanità per denunciare questa grave anomalia la campania cambia verso nel senso che l'Italia andrà da una parte e la campania da un'altra verso il Medioevo con la lettera i grillini chiedono al presidente della Repubblica che vigili sul rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione il diritto alla salute è tra questi crediamo che con questa fretta e poca serenità si commettano azioni che non vanno a vantaggio né del servizio sanitario pubblico né dei cittadini utenti durissimo anche il giudizio dell'ex governatore Stefano Caldoro che parla di una legge truffa una vergogna che porta la campania indietro di anni e va anche contro le scelte di meritocrazia previste dal governo Renzi con la legge Maria l'ex presidente della giunta si dice quindi pronto a presentare un esposto al governo perché spiega le norme volute da De Luca sono in contrasto con quanto previsto di recente dal Consiglio di Stato alle polemiche il governatore della campania replica dicendo che questa legge va proprio nella direzione opposta ai sospetti avanzati e di non avere alcuna intenzione di accumulare potere di nomina al contrario di non voler più indicare dei commissari e nel contempo garantire ai campani il livello di assistenza sanitaria che chiede da troppi anni quanto alla procedura d'urgenza adottata sul provvedimento De Luca ha definito le nuove norme scelte strategiche fondamentali per segnare la svolta nella sanità campana e per le quali è necessario avere direttori generali nella pienezza dei poteri e delle responsabilità ha spiegato così il presidente della giunta regionale nominava i direttori generali prima e li nomina anche ora l'unica differenza è che se c'è una nomina diretta ora si sa chi è il responsabile De Luca rivenica la paternità dell'operazione pensata e avverte di certo non per accumulare potere di nomina ma per l'esatto contrario non voglio più nominare o prorogare i commissari vogliamo rientrare nell'ordinario Il primo firmatario della proposta di legge Raffaele Topo, presidente della commissione sanità ha voluto sottolineare come la maggioranza applicherà le stesse regole valide per altre regioni quali Toscana e Veneto e che per la scelta dei manager si attingerà all'elenco degli idonei della Campania o di altre regioni Intanto questa mattina al Cardarelli De Luca ha parlato del piano ospedaliero regionale Il mio obiettivo è di chiudere il commissariamento della sanità campana entro il 2017 ma questo significa che dobbiamo lavorare alla tedesca senza perdere un minuto di tempo sui livelli essenziali di assistenza sulla realizzazione delle reti dell'emergenza urgenza La rete dell'infarto, la rete dell'ictus la rete dei politrauma, la rete del materno infantile significa realizzare la medicina sul territorio significa organizzare un 118 serio significa spostare il 118 dal Cardarelli significa fare i contratti con le strutture private accreditate cioè significa uscire dal disastro con il quale abbiamo convissuto Ed intanto la realtà è ben diversa da quello che si immaginano i nostri amministratori sulle carte bisogna convivere con la realtà che per l'ospedale Umberto I avete già visto le immagini prima l'ospedale Umberto I continua a vivere momenti di grande difficoltà al pronto soccorso non solo mancano gli infermieri ma ora mancano anche i medici e ci sono i colleghi che sono indicati a sostituirli in caso di malattia o di altri problemi che iniziano anche a protestare Vediamo Continua l'odissea dell'ospedale Umberto I ulteriori criticità si vivono al pronto soccorso dove oltre agli infermieri mancano anche i medici spesso a lavorare ne rimane uno solo tanto da costringere la direzione sanitaria a firmare ordini di servizio che impongono ai medici impegnati in altri reparti ad effettuare turni di lavoro al pronto soccorso ma ora la situazione è diventata esplosiva perché molti camici bianchi iniziano a protestare contro questi trasferimenti definiti coatti intanto il sindaco di Nocere Inferiore ha chiesto una convocazione ai vertici dell'ASL Salerno per avere informazioni sul futuro dell'Umberto I avevamo affrontato questa cosa dopo un po' di incontri poi non avendo avuto risposte concrete abbiamo sollevato quella dura polemica a cui è conseguita nella stessa giornata la pubblicazione del bando ecco singolare fortunata mi permetto di dire circostanza la pubblicazione del bando assunzionale per alcuni medici poi abbiamo avuto notizia del successivo atto di organizzazione ospedaliera aziendale sul nostro territorio ASL sono stato telefonato dal dottore D'Ambrosio perché si approcciava ad un ulteriore incontro dopo quella mia intervista ho soprasseduto aspettando appunto di averne conferma non ne ho avuta convocherò a questo punto chiederò un incontro una convocazione cortese ma ovviamente plurale con la presenza di tutte le forze consigliari non soltanto con me di tutte le forze consigliari di cui un'amministrazione sanitaria deve dare conto in una città come Nocera di quello che si sta facendo d'altronde noi avevamo una risposta positiva e rispettosa da parte del precedente direttore generale dell'ASL che era squillante il quale venne a sedersi in aula consigliare con tutti i rappresentanti delle forze consigliari non vedo per quale motivo la stessa cosa non debbono fare in una situazione di tale aggravata criticità chi attualmente regge la gestione e ospedaliera e aziendale in tutte le mense pubbliche della regione campania scuole aziende distributori di prodotti alimentari non ci dovrà essere tra gli ingredienti di questi alimenti l'olio di palma infatti il consiglio regionale ha approvato una mozione del movimento 5 stelle contro l'olio di palma è passata maggioranza lo ha detto Maria Muscarà che è consigliere regionale del movimento 5 stelle ed ora parliamo delle elezioni amministrative ieri la commissione antimafia preseduta da Rosi Bindi ha così indicato i tanti candidati impresentabili cioè che hanno avuto e hanno problemi con la giustizia battipaglia dove si rinnova il consiglio comunale si elegge il sindaco ne ha ben 7 quindi quasi un vero e proprio record vediamo la scura di Rosi Bindi presidente della commissione antimafia si abbatte sulle amministrative in programma battipaglia sono infatti addirittura 7 gli impresentabili resi noti dalla commissione tutti i candidati in liste civiche la commissione antimafia ha diffuso ieri nel corso di una conferenza stampa a Roma i risultati delle verifiche svolte sui comuni chiamati al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche o che sono stati interessati da accessi dei prefetti su 14 impresentabili in tutta Italia la metà sono soltanto a battipaglia un vero e proprio record di cui andare davvero poco fieri come detto nella lista di proscrizione non fanno parte esponenti di partito tre di loro sono nelle liste del candidato sindaco Gerardo Motta l'imprenditore Lucio Carrara lista battipaglia con cuore il panettiere Francesco Procida speranza per battipaglia il carrozziere Bartolomeo D'Appuzzo battipaglia a testa alta gli altri tirati in ballo sono l'operaio Demetrio Landi con moderati per battipaglia candidato sindaco Enrico Lanaro l'imprenditore Daniela Minniti nella lista battipaglia popolare candidato sindaco Vincenzo Inverso il macellaio Carmine Fasano di azione civica candidato sindaco Ugo Tozzi e Giuseppe Del Percio operatore della ristorazione nella lista la città che verrà con il candidato sindaco Pietro Ciotti ad aggravare il quadro c'è la circostanza che tutti hanno presentato autocertificazioni false sui carichi pendenti al casellario giudiziare tra i sette impresentabili battipagliesi si legge nel testo della relazione si segnalano tre candidati condannati per reati legati a traffico e cessione di sostanze stupefacenti due per bancarotta fraudolenta uno per riciclaggio e uno per rapina Fasano Carrara Procida Dapuzzo Landi e Minniti sono incandidabili per false comunicazioni del Percio invece è candidabile ma se eletto potrebbe essere sospeso ai sensi della legge Severino nella relazione si segnala anche la condotta di un pubblico ufficiale che strumentalizzando le proprie funzioni ha preso informazioni riservate di natura investigativa per farle conoscere ad una persona a lui vicina inoltre l'antimafia ha segnalato altri sei candidati che hanno rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti coinvolti in indagini per fatti di criminalità organizzata e comunque in contatto con persone ristrette per vari reati e considerate pericolose al punto da essere sottoposte al regime del 41 bis Sarno dove le forze politiche presenti in consiglio comunale sono impegnate in un dibattito abbastanza acceso sulla demolizione di immobili abusivi ieri doveva essere consiglio comunale su questo argomento che è stato rinviato vediamo è stato il punto 6 all'ordine del giorno cioè le proposte di delibere in merito a possibili demolizioni di immobili abusivi quello che ha fatto più discutere durante la seduta di consiglio comunale di ieri sera a Sarno consiglio che ha deciso per un atto di verifica di tutti gli immobili del territorio a rischio soggetti a vincoli per capire quale abbia una posizione insanabile e quindi da abbattere il sindaco Canforo è stato molto chiaro in merito deve esserci la giusta distanza cioè la giusta distanza la giusta freddezza nel capire nel rendicontare poi al consiglio comunale e nell'essere obiettivamente pronti a dire quanti sono i fabbricati da abbattere e quanti possono essere o in regime di fini sociali o in altro regime normati essere utilizzati ma questo deve essere fatto con grande con grande precisione oserei dire con una precisione chirurgica e soprattutto quello che deve essere chiaro che tutto ciò che è stato realizzato in zone urbanisticamente parlando legate da vincoli in quelle zone non c'è nessuna speranza se non l'abbattimento ma il consiglio comunale di Sarno ha approvato anche il regolamento di contabilità e quello per la gestione del contenzioso per il conferimento di incarichi per la soddisfazione dell'assessore al bilancio e vice sindaco Gaetano Ferrentino una seduta tecnica che ha analizzato anche il tema della gestione e l'utilizzo di automezzi comunali il consigliere comunale Toti Orza si è detto convinto che il confronto possa sempre portare a risultati positivi l'importante è il confronto perché credo che bisogna un poco smarcarsi da quelle che possono essere le simpatie se possiamo definirle a livello nazionale a noi ci interessa il territorio i problemi territoriali li conosciamo soltanto noi quindi l'importante io aspico sempre il confronto mi pongo sempre per quanto mi riguardi in una posizione appunto di dialogo con l'attuale maggioranza ovviamente se non ci sono poi punti di incontro si vota si vota appunto secondo la propria coscienza e tra gli argomenti discussi anche quello dell'approvazione dello schema di convenzione con la provincia di Salerno per l'esercizio delle funzioni della stazione unica appaltante di cui ci ha parlato il consigliere comunale Antonio Crescenzo il nostro passo indietro rispetto all'ASMEL perché non poteva essere una stazione unica appaltante perché dal ministero aveva avuto dei rilievi su alcuni aspetti mi pare che siano stati praticamente poi superati da parte dell'ASMEL per cui passare da una stazione unica appaltante dove avevamo dato il consenso mi pare all'unanimità a quella provinciale vorrei essere certo che non ci fosse che il motivo che ci induce a fare questo passo indietro e questo ingresso in una stazione appaltante fondamentalmente provinciale non sia un errore basato su fatti che poi di fatto sono stati già risolti e al termine del Consiglio Comunale Massarno appunto quando si è parlato degli immobili abusivi un cittadino ha avuto un violento diverbio con il consigliere comunale Massimiliano Tresca parole pesanti momenti di tensione e poi tutto è tornato alla normalità grazie all'intervento di altri componenti dell'ASMEL e ora parliamo di rifiuti parliamo di Pagani una città più pulita rispetto al passato quella in cui si specchia quotidianamente il sindaco Bottone che si dice soddisfatto per come sta andando la raccolta differenziata anche se ovviamente si aspetta molto di più vediamo l'appello non è caduto nel vuoto il sindaco di Pagani si è detto soddisfatto della disponibilità dimostrata dai suoi cittadini a non conferire rifiuti nella giornata di vigilia dello sciopero degli operatori dei consorsi di Bacino andato in scena lunedì scorso restano ovviamente problematiche da risolvere anche se il nuovo atteggiamento più collaborativo degli utenti potrà portare soltanto a risultati positivi nell'ambito della raccolta differenziata così come va rimarcato dichiarato Bottone il lavoro che stanno svolgendo con grande attenzione gli operai del cantiere di via Filettine del consorzio Bacino Salerno 1 Attraverso voi voglio ringraziare ai tantissimi tantissimi cittadini paganesi e attività commerciali che hanno risposto positivamente al nostro appello quindi ho visto una città dove in alcuni punti c'erano i rifiuti magari qualcuno non è stato raggiunto da queste comunicazioni mettiamo in atto anche questo immaginiamo anche questo ma dove è arrivata la comunicazione i cittadini paganesi hanno risposto e questo è un stimolo importante un messaggio importante che la città ha voluto dare a tutti quanti noi quindi un impegno in più attraverso i controlli sul territorio attraverso anche una maggiore pubblicizzazione di quello che è il calendario o la tipologia per la differenziale c'è chi vuole polemizzare allora mette in evidenza il cumulo da qualche parte o l'ingombrante che viene però dobbiamo vedere pure il risultato se arriva il cumulo il giorno dopo lo togliamo se si crea l'ingombrante se mettono fuori l'ingombrante lo andiamo a togliere io che giro tutti i giorni vedo una città più pulita controlli sia sul consorzio per quello che mette in campo il consorzio sia per quanto riguarda anche noi cittadini che ci dobbiamo diciamo rendere conto che dobbiamo conferire in determinati orari e non possiamo tirare fuori tutto a nostro piacimento il forum dei giovani sta per iniziare una campagna di sensibilizzazione proprio alla raccolta differenziata che si chiama io mi differenzio lo stesso scelto dall'amministrazione comunale ci saranno una serie di iniziative appunto per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata spiegarne l'importanza e promuoverne la diffusione il primo appuntamento è per domenica 5 giugno in piazza Sant'Alfonso dove verranno allestiti una serie di stand ognuno dedicato ad un singolo materiale di raccolta e ora vi diamo una notizia al termine di questa edizione del telegiornale in qualche modo questa notizia è legata alla raccolta dei rifiuti e all'ambiente ci sarà focus l'appuntamento di approfondimento del nostro telegiornale ospite in studio Stefana Iaccarina una ginecologa che parlerà dell'infertilità di coppia legata anche all'inquinamento ambientale e ora continuiamo a parlare di questo perché si è concluso poco fa a Salerno a Palazzo Sant'Agostino il consiglio provinciale e si è parlato della società ecoambiente appunto che è la società di una società per azioni che viene seguita dall'amministrazione provinciale vediamo come andato il consiglio provinciale documenti mai pervenuti una situazione debitoria di 2 milioni e mezzo di euro il consiglio provinciale di Salerno su richiesta del consigliere delegato all'ambiente Mimmo Volpe ha tenuto questa mattina a Palazzo Sant'Agostino una seduta monotematica per discutere dei rapporti con la società in house della provincia ecoambiente che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Salerno in ballo per il presidente della provincia Canfora non c'è solo la sorte degli amministratori ma di chi ci lavora del consorzio di bacino e dell'intero ciclo dei rifiuti sul territorio nel corso del consiglio di questa mattina che ha registrato molte assenze si è parlato della cattiva gestione della società responsabilità attribuite al presidente Mario Capo che per oggi aveva richiesto di intervenire al consiglio non sono mancate le polemiche tra i banchi dell'opposizione all'indirizzo del presidente che ha chiesto le dimissioni di Mario Capo per la mala gestione mentre è già in corso un procedimento giudiziario è una situazione molto confusa che destabilizza anche il futuro della stessa società ecoambiente dei lavoratori che sono in attesa di tutti quelli che operano nel ciclo integrato dei rifiuti non può la nostra partecipata non rispondere alla proprietaria è una cosa assurda è un paradosso quindi da stamattina con questo ordine del giorno si dà il via anche a un'azione stragiudiziaria per la convocazione degli organismi titolati alla nomina del nuovo presidente questa vicenda potrebbe entrare in ballo anche il sistema giustizia con un'indagine della procura ma già c'è già c'è un giudice il giudice Iachia sul blocco dei fondi sul prestito di 2 milioni e mezzo ha già avviato gli atti al pubblico ministero per verificare se c'è stata una corretta gestione della tenuta di questi fondi il problema è che ecoambiente in questo momento sfugge completamente al controllo della titolare cioè della provincia di Salerno non dimentichiamo che è una società in house e il tutto lega in un rapporto fiduciario fiducia che non c'è mai stata perché lo stesso comportamento della governance di ecoambiente è stato il rispettoso del ruolo istituzionale non presentandosi ai tavoli in prefettura ai tavoli istituzionali e quindi non credo che questa sia una buona rappresentazione della gestione della cosa pubblica è una situazione non direi drammatica una situazione difficile non è che fino adesso noi abbiamo chiesto in continuazione documenti che non ci sono mai stati consegnati Quale potrebbe essere l'evoluzione di ecoambiente se questa situazione non è sanabile che cosa si fa? Se questa soluzione non è sanabile si prende un commissario liquidatore e si liquida o altrimenti ci vorrà la procura che tra l'altro io sono anche deciso se l'amministratore delegato il dottor Mario Capo ha la bontà di dimettersi cosa che gli avevamo chiesto già da tempo e che non ha mai fatto significa che da buon amministratore e da buon padre di famiglia proprio per salvare tanti posti di lavoro e proprio per avere certezza di quello che sta succedendo vuol dire che il procuratore capo della Repubblica mi dirà un uomo a cui affidare le sorti di ecoambiente l'ecoambiente è una società per azioni come avete sentito dal servizio in house della provincia di Salerno il dottore Mario Capo domani mattina ha annunciato una conferenza stampa sui temi emersi proprio nel corso del consiglio provinciale che si è tenuto questa mattina e intanto domani è una data importante per il nostro paese per l'Italia perché è il 2 giugno la festa della Repubblica e domani saranno 70 gli anni che appunto la Repubblica celebrerà in tanti modi e a Salerno ci sarà una cerimonia in piazza Mendola di iniziare dalle ore 10 e 30 organizzato dalla prefettura di Salerno e il prefetto Salvatore Malfi ha ricordato in un comunicato che la ricorrenza del 2 giugno festa della Repubblica rappresenta per il nostro paese un momento di riflessione e di partecipazione nel quale il ricordo si fonde con il senso di appartenenza ad una grande nazione e il senso di gratitudine si rinnova per evocare a tutti noi la conquista di alti ideali di civiltà libertà solidarietà e democrazia durante la cerimonia di domani saranno consegnate tre medaglie alla memoria di cittadini della provincia di Salerno deportati nei lager nazisti ai quali dice il prefetto Malfi rivolgiamo i nostri sentimenti di gratitudine per aver sofferto in nome di quegli ideali che hanno ispirato la nostra Costituzione e in occasione della festa della Repubblica l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ha previsto per domani sera e fino a domenica prossima l'illuminazione del castello di Sant'Auditore e del municipio con tre fasci di luce verde bianco e rosso per celebrare la nuova Italia repubblicana che nel 1946 con un referendum abolì la monarchia per l'occasione l'associazione Cava 5 Stelle Libro Bianco nell'ambito dell'iniziativa Coloriamo la città illuminerà con i colori della bandiera italiana le arcate dei portici e questa mattina a Nocera Inferiore nell'aula consigliare Tonino Scala che ha scritto un libro La Costituzione siamo noi un libro dedicato ai bambini ha spiegato ulteriormente agli alunni delle scuole elementari di Nocera Inferiore che cos'è la Costituzione italiana vediamo come è andato l'incontro Spiegare ai bambini la Costituzione italiana ci ha approvato Tonino Scala che ha scritto il libro La Costituzione siamo noi lo hanno letto anche gli alunni delle scuole elementari di Nocera Inferiore che questa mattina alla vigilia della festa della Repubblica che celebra domani i 70 anni dalla sua Costituzione nell'aula consigliare del municipio i ragazzi hanno potuto rivolgere all'autore numerose domande Ma sai che cos'è la Costituzione italiana? La legge più importante del nostro Stato Perché? Perché lo Stato si basa sulle regole e sulle leggi che noi dobbiamo che noi dobbiamo rispettare E come è facile quanto è difficile raccontare e spiegare a dei ragazzini cittadini del domani le regole come ha detto Torquato il sindaco della Costituzione gli articoli della Costituzione è una cosa semplicissima soprattutto se chi scrive un libro prima di parlare a ragazzini parla ai propri figli perché dovrebbe essere l'obbligo l'impegno di ogni genitore di provare a raccontare cos'è la Costituzione e che cos'è il rispetto della Costituzione io ci ho provato ci ho provato con questo libro La Costituzione siamo noi ovvero la Costituzione spiegata ai ragazzi che è un viaggio nella storia della bella Costituzione italiana ma è soprattutto il dialogo tra un papà e i suoi figli perché è da genitore che sento questo grande peso sulle mie spalle di dover far capire a loro l'importanza di questo gran bel testo che fa della Costituzione italiana la Costituzione più bella del mondo è sempre emozionante parlare ai ragazzini come ha fatto lei poco fa e parlare di Costituzione lei ha parlato di regole l'occasione per scambiare appunto delle opinioni delle considerazioni con i ragazzini far capire loro che tutte le libertà di cui noi godiamo tutti i diritti di cui noi godiamo la forma in cui siamo organizzati deriva direttamente da una forma di Stato lo Stato repubblicano democratico e pluralista che da 70 anni regge il Paese sono valori quelli repubblicani più ampi valori repubblicani patrimonio comune dell'intero dell'intera nazione che vanno difesi e non vanno dati per scontati dicevo con i bambini ciò che a noi sembra normale fare in tante parti del mondo per tanti popoli del mondo per tanti bambini del mondo non è così e questo fatto che non abbiano gli stessi nostri diritti la stessa nostra forma di organizzazione statuale è anche una conseguenza della mancanza di una repubblica democratica pensiamo a tante parti del mondo del Sud America o parti del Centro America dell'Asia soprattutto dell'Africa dove ci sono forme di tirannia religiosa o non religiosa dove ci sono forme di organizzazione statuale dittatoriale mancanze di libertà mancanza di diritti economici mancanza di diritti sociali di libertà personali quindi tutto questo deve fare in modo che sia patrimonio comune dei bambini bisogna iniziare a parlare anche in casa anche nelle scuole con i bambini a farli rendere consapevoli dei diritti che fanno il nostro sistema paese la nostra nazione italiana C'era inferiore cambiamo argomento parliamo delle aree industriali dei nuovi insediamenti c'è un passo in avanti nella polemica tra amministrazione comunale e imprenditori che dovranno erigere i loro pifici i loro laboratori vediamo pronti a firmare la convenzione gli assegnatari dei lotti delle aree industriali di Casarzano e Fosso Imperatore di Nocera Inferiore hanno avuto un altro incontro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore con esito più che positivo gli amministratori hanno rassicurato gli imprenditori sui tempi così come era già stato più volte richiesto proprio dagli imprenditori stessi il vertice tra la delegazione degli assegnatari interessati e l'assessore Ciro Amato il consigliere Paolo De Maio che hanno partecipato in rappresentanza del primo cittadino ha creato l'entusiasmo e la soddisfazione necessaria per arrivare alle attese firme sulle convenzioni Amato e De Maio hanno sottolineato durante il vertice che si sta seguendo minuziosamente il procedimento previsto dal bando non tralasciando nessuna clausola inserita e ribadendo che subito dopo la firma delle convenzioni si procederà in maniera spedita adottando perfino una procedura d'urgenza per le attività di esproprio che rappresentano il passo successivo alle convenzioni perché così gli imprenditori avrebbero la possibilità di chiedere immediatamente i permessi a costruire in una nota ufficiale gli assegnatari dei lotti di Fosso Imperatore Casarzano si sono detti fiduciosi per la felice conclusione di tutto l'iter procedurale perché le nostre preoccupazioni hanno scritto sono rivolte esclusivamente ai tempi dopo anni di attese e speranze riteniamo giustificabile il nostro timore che tutto possa rallentarsi ecco il motivo della richiesta di ulteriori incontri gli imprenditori hanno anche affermato di aver avuto sempre la disponibilità del sindaco Torquato e degli amministratori comunali ad effettuare incontri che tra l'altro sono stati sempre costruttivi assegnatari quasi tutti i componenti anche del consorzio artigiani in Uceria che lavora che sono pronti a investire per quello che potrebbe essere un momento di crescita e sviluppo per la città con nuovi sbocchi anche sul fronte occupazionale vogliamo investire hanno scritto ancora nella nota e ci fa piacere notare che l'amministrazione comunale abbia mostrato piena volontà per velocizzare l'iter per questa che è la fase cruciale del procedimento Molesta e persecutoria sono queste le accuse nei confronti di un uomo di 64 anni di Cosenza che è stato posto agli arresti domiciliari e bloccato in una struttura in un albergo di Fisciano è stata l'operazione della questura di Salerno l'uomo avrebbe tenuto questo comportamento molesto e persecutorio nei confronti di alcuni docenti universitari di Roma membri di una commissione esaminatrice che hanno negato l'ammissione all'esame di Stato post laurea appunto al 64enne c'è stato un incidente stradale questa mattina in autostrada tra Eboli e Battipaglia la vettura è andata completamente distrutta finita sotto il camion che trasportava carburante il conducente si è salvato davvero per un miracolo sul posto vigili del fuoco e polizia stradale c'è stato anche un altro incidente stradale nella zona industriale di Salerno sul posto i volontari dell'Humanitas e i vigili due le auto coinvolte in un tamponamento una persona è rimasta ferita mentre invece a Portici la guardia di finanza ha sequestrato 24 slot machine con una scheda secondaria attraverso la quale si evadeva il pagamento delle imposte allo Stato sono state scovate nell'operazione della guardia di finanza appunto di Napoli tre imprenditori attivi nel settore sono stati arrestati e sono ora gli arresti domiciliari sequestrate poi sequestrate circa 150 mila euro ancora guardia di finanza e i finanzieri della compagnia di Capua hanno sottoposto a sequestro numerose palette segnaletiche contraffatte del tipo di quelle in uso alle forze dell'ordine che erano detenute per la vendita alla titolare di un'attività commerciale senza la prescritta autorizzazione due persone sono state denunciate ed ora un'altra notizia che riguarda comunque l'attività di domani festa del 2 giugno perché tra le iniziative per celebrare i 70 anni della Repubblica italiana c'è anche Nocera superiore che apre le porte della sua storia a tutti i cittadini e lo fa appunto domani il giorno della festa della Repubblica con l'iniziativa Noceria porte aperte l'amministrazione cuofano da tutti i cittadini la possibilità di entrare in empatia con le bellezze dell'antichità di Nocera superiore che Nocera superiore è custode questa iniziativa consente di entrare liberamente nella parrocchia di Santa Maria Maggiore l'ufficio scavi Nocera Sarno saranno visitabili gli scavi della necropoli di Pizzone il battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore così come tutte le altre zone arcologiche della città ed ora parliamo della sagra dell'ognocco alla fontana ritorna anche quest'anno la tradizionale iniziativa a favore del complesso parrocchiale Gesù Risorto a Pagani al via da domani per tre giorni vediamo al via domani e per tre giorni la sagra dell'ognocco alla fontana l'iniziativa gastronomica giunta all'ottava edizione il cui ricavato è devoluto per il completamento del complesso parrocchiale di via fontana una degustazione di prodotti delle nostre terre verdure d'ortaggio a chilometro zero preparati dallo chef Teresa De Felice e dall'equip di volontari della parrocchia Gesù Risorto di Pagani all'atere un concorso di murales è l'ottava edizione e tutto quello che verrà raccolto per questa serata ovviamente viene usato per continuare e finire il nostro complesso parrocchiale la chiesa di Gesù Risorto nasce con questo gnocco alla fontana perché abbiamo tutte le verdure della zona biologica e diciamo tutto quello che riusciamo a reperire per noi è tutto naturale abbiamo usato lo spazio della parrocchia per noi per la cucina e la strada per tutti quelli che verranno aspettiamo tutti in parrocchio con tutta la comunità perché è ovvio che in tutto questo c'è tutta la comunità che collabora concorso murale sedi intorni che si svolgerà il 2 giugno dalle 14.30 a mezzanotte abbiamo due categorie che si divideranno in professionisti e dilettanti abbiamo scelto il tema gesti di bontà che emozione questi dipinti verranno realizzati su pannelli di legno che verranno esposti lungo la strada della nostra parrocchia i partecipanti sono circa 25 e verranno premiati il giorno 3 i primi premi vengono vengono lasciati in parrocchia mentre le altre opere se qualcuno vorrà potranno essere acquistate bene ora noi ci fermiamo per qualche minuto abbiamo la pubblicità poi c'è il calcio a dopo